Nuovo appuntamento con cibo e dintorni ben ritrovati. Di cosa ci occuperemo oggi? Partiremo con la rubrica cura di Assitol, olio Evo, istruzioni per l'uso. Affiancherò la giornalista enogastronomica Laura Gambacorta per cercare di spiegarvi tutti i segreti, le caratteristiche, le particolarità del nettare dorato, l'olio extravergine d'oliva. Poi un po' di sorrisi con Donatella Greco, Patroni Griffi e la sua rubrica ricette pazze dal mondo. E chiuderemo con il travolgente romano dalla montà sempre a caccia di ricette della tradizione all'ombra del Vesuvio. Benvenuti al primo appuntamento con la rubrica olio extravergine d'oliva, istruzioni per l'uso. E beh direte voi ma noi lo sappiamo usare, forse, ma sapete anche sceglierlo, degustarlo, conservarlo. Eh forse non sapete neanche esattamente quando usare un tipo di olio e quando un altro. Noi oggi però da oggi anzi vogliamo raccontarvi esclusivamente di olio extravergine di oliva e per farlo siamo in compagnia di una cara amica Laura Gambacorta che è qui però nella veste non solo di giornalista enogastronomica ma soprattutto di assaggiatrice ufficiale di oli iscritta al panel della Camera di Commercio. Il panel che cos'è Laura? Nulla a che vedere con la fetta di pane? Che cos'è questo panel? Il panel è un gruppo di assaggiatori allenati e addestrati per effettuare l'analisi sensoriale dell'olio. Con l'analisi sensoriale si vanno a individuare i pregi dell'olio tipo il fruttato, l'amaro, il piccante e talvolta purtroppo anche i difetti di questo prodotto. E certo. Ma che cosa ne viene fuori? Una volta che avete saputo che questi pregi ci sono e allora che succede? L'analisi sensoriale serve per classificare all'interno delle categorie verciologiche un determinato olio. Tre sono le possibili categorie verciologiche. Extravergine, vergine e lampante. Extravergine sarà soltanto l'olio totalmente privo di difetti. Scusami, ci sono alcune persone a proposito di difetti che dicono no, ho assaggiato quest'olio ma è acido oppure mi pizzica in gola. Questi sono veramente dei difetti? No, purtroppo è l'errore che viene fatto più comunemente da chi non è un assaggiatore, come dire, esperto perché l'acidità ovviamente non può essere percepita all'assaggio però viene spesso confusa invece con quel pizzicone in gola che tra l'altro invece è un requisito dell'olio perché è un olio che pizzica in gola, vuol dire che è un olio ricco di fenoli e quindi ci fa anche molto bene alla salute. Come si fa la degustazione? Velocemente perché naturalmente tu hai delle competenze che noi non potremmo mai avere. In sala panel noi utilizziamo questo tipo di bicchierino ma molto più semplicemente lo si può fare anche a casa insomma in un altro ambiente se non si ha questo a disposizione lo si può fare con un bicchierino di plastica, quelli lì per il caffè. Ci si versa una piccola quantità di olio e poi ci sono due momenti, c'è il momento della fase olfattiva e la fase degustativa. Dobbiamo però fare un'operazione strana che ti vedo fare qualche volta. L'operazione è quella di riscaldare l'olio perché per procedere all'assaggio l'olio deve raggiungere una temperatura intorno ai 27 gradi. Quindi diciamo con questa operazione la mano deve stare su perché deve proteggere, non deve far scappare via. Troppo complicato. Senti ma qui noi abbiamo il nostro bel cestino di pane e se un profano invece mette un filo d'olio sul pane e lo assaggia che ne pensi? Guarda come assaggiatrice professionale diciamo ti dico che non è possibile. Mi rendo anche conto che l'assaggio dell'olio per alcuni può essere insomma uno scoglio insormontabile almeno all'inizio. E allora meglio una sana bruschetta. Più che una bruschetta anche meglio un pane almeno non salato, non sapido diciamo che quindi non vada a coprire. Allora la prima puntata del nostro appuntamento è bella che è terminata, che dici com'è andata? Ma direi liscio come l'olio. Chi di voi non ha mai mangiato una pizza con lo scorpione o una zuppa con le cavallette? C'è poco da sorridere. Nella sua rubrica Donatella Greco Patroni Griffi dal titolo ricette pazze dal mondo ce le racconta tutte ma sono tutte rigorosamente vere. Cari amici ben ritrovati alla nostra rubrica ricette pazze dal mondo. Come sempre siamo andati in giro a cercare i piatti più pazzi, più strambi in ogni angolo del nostro pianeta. La ricetta di oggi è una vera leccornia che farebbe invidia anche al nostro Bastianich. Viene dal Messico e stiamo parlando della zuppa di escamoles. Si tratta di simpatiche larve di formica gigante che vengono raccolte ai piedi delle radici di questa pianta dell'agave e possono essere fritte in padella e quindi servite sulle tradizionali tortillas messicane oppure si può procedere con una simpatica zuppa e vedrete che amici e parenti resteranno ad occhi aperti. Procediamo quindi prendete questo tegame con dell'acqua, aggiungiamo semplicemente un po' di carotina, un po' di sedano e volendo anche un dado facciamo il nostro brodo, buttiamo le simpatiche larve, larvette e gli animaletti nell'acqua e voilà poniamo sul fuoco e attendiamo. E allora cari amici ecco qui il nostro brodo è pronto e fatto, bello caldo, bello carico e quindi pronto per essere degustato. Questo va benissimo anche nelle serate invernali quando si torna dopo l'ufficio e direi che insomma essendo poi noi italiani una spruzzatina di parmigiano reggiano non guasta. E ricordate amici che paese che vai, usanze che trovi e quindi dove c'è gusto non c'è perdenza. In chiusura di trasmissione appuntamento con la rubrica di Romano Dallamontà che è a caccia di ricette della tradizione all'ombra del Vesuvio. Cari amici benvenuti a Tavola sotto il Vesuvio. Il nostro viaggio nella cucina tradizionale Campana inizia questa sera da Stick House, il ristorante al vomero famoso per la carne particolare pregiata dove però si fa anche un piatto della ricetta popolare napoletana. Francesco Di Biaso che ne è titolare. Francesco io parlo della polpetta ragù. Allora come si fa questa polpetta ragù? Allora noi mettiamo pepe, prezzemolo, uva sottanina, pinoli, pane, formaggio, aglio e uova. Il nostro Luca Esposito, lo chef in questo momento sta impastando e che carne state usando per la polpetta? È carne di manzo, solamente manzo. Quindi manzo, parmigiano reggiano, polpetta, è la classica ricetta napoletana, proprio quella che facevamo. E poi questa polpetta come viene cotta? Allora viene prima fritta, poi dopo viene fatta una crosta fuori bella tutta croccante, e poi viene messo nel ragù, che viene fatto stare quattro ore. Così si cuoce fine dentro e viene bella, tenera e buonissima. Quindi la polpetta napoletana, veramente quella là che faceva la nonna fuori al parto, quattro ore di cottura nel ragù. Quindi si intenerisce, si insaporisce e diventa un secondo. Ma la polpetta che voi preparate, quanto pesa? Andiamo sui 100 grammi, perché è una bella polpetta grossa, bella, grossa, grossa. Io vedo che Luca, ecco, sta ammassando, sta ammassando la polpetta, è quasi tutto. Luca hai messo quasi tutto dentro? Tutti gli ingredienti già l'abbiamo messi, li stiamo incorporando piano piano in modo che si amalgama. Quindi una volta amalgamata la polpetta, tu... Possiamo dare la forma. Ecco, facciamo la forma. Francesco, allora dopo quattro ore di cottura nel ragù, il prodotto finale sono queste tre splendide polpette con un cozzetto di pane napoletano e, Francesco, qua io devo a zuppare il pane e naturalmente la polpetta dopo me la devo mangiare. Cari amici, alla prossima. Termina qui questa puntata di Cibo ed Intorni, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento online sui social di VG Channel e anche tra una settimana qui su Canale 8. e anche tra una settimana qui sui social di VG Channel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.